Parla di cantieri aperti in provincia il suo presidente Franco Alfieri ma nel Cilento soprattutto nel suo sud non se ne vede l'ombra. Evidentissime invece le strade interrotte ed abbandonate, accentola, si fa lo slalom per arrivare dal capoluogo a Palinuro. Non è quel che pensa il presidente della provincia Franco Alfieri che nel fare il bilancio dei suoi primi sei mesi al vertice dell'ente si dice ottimista ed entusiasta per quanto si sia fatto in una manciata di giorni rispetto ad anni di quiescenza, soprattutto sul fronte della viabilità. Sono 2.600 i chilometri di strade che attraversano la provincia di Salerno, gran parte di queste necessitano più che di ordinaria manutenzione e di interventi straordinari in molti casi urgenti. Dalla costa all'entroterra la viabilità del Cilentana è un colabrodo, le frane e gli smottamenti segnalati da cartelli verticali che spesso scompaiono nella vegetazione che neppure viene tagliata al ridosso della stagione estiva, rimangono lì in attesa di un intervento rimandato a data da destinarsi. Uno dei tanti esempi è la strada che collega Foria, Centola, capoluogo anche di Palinuro. Una tratta costellata da restringimenti, sprofondamenti di carreggiata, delimitati dalla consueta rete arancione nella quale addirittura è cresciuta l'erba. Sulla mancanza di fondi da destinare agli interventi provinciali molto è da attribuirsi alla legge del Rio del 2014, nata come strumento legislativo che gradualmente avrebbe dovuto far estinguere le province per accentrare fondi e stanziamenti presso il governo centrale, eliminando sprechi e lungaggini burocratiche, la legge del Rio, che mai ha portato a termine la riforma degli enti provinciali, di fatto ha comportato lo svuotamento delle casse degli enti lasciando ad esse la gestione delle medesime competenze, fra queste la viabilità.